allora buongiorno sono pino molti già mi conoscono dell'associazione impattico sostenibile zero waste campania e mentre stavo in vacanza mi sono imbattuto in un punto blu perché voi appena passate avanti al cancello la prima cosa che purtroppo è così lo devo dire bisogna cambiarlo perché sembra scritto punto blu però poi buttato l'occhio più di una volta che cerca sempre queste particolarità e diciamo non me ne faccio scappare ho incontrato lorenzo che è un personaggio ecosostenibile e quindi mi sembrava doveroso chiedergli se potevamo intervistarlo lui ha consentito e quindi ci racconterà un po quale la sua storia lorenzo come nasce l'idea di questo punto bio che non è punto blu essenzialmente come ha già detto pino collega tino da scritto punto bio e la scritta è gialla e quindi tutti pensano non so per quale motivo che si ha scritto punto blu confesso lo vorrei pure io no l'idea è nata diciamo perché io mi alimento di cibo quindi l'ho fatto essenzialmente anche per me per me stesso di fare a chilometro zero per me stesso le cose sostenibilità ho cercato di fare cioè un pezzo di terreno abbandonato di rimetterlo in sesto e di creare qualcosa che sia realmente di ecosostenibile diciamo un attimino per questo lorenzo io ho un'azienda agricola olivecola e insisto sul territorio di vieste del gargano e ho parecchi terreni distribuiti anche all'interno del parco nazionale del gargano qui sono a santa lucia vicino al mare una zona splendida molto bella molto ancora selvatica e piena di turisti e ho una striscia di terreno dove ho cercato di fare dell'ecosostenibilità un'agricoltura senza usare sostanze chimiche? assolutamente senza usare sostanze chimiche neanche organiche perché nell'organico ah nemmeno organiche usi? no questo non è organico perché nell'organico anche ci sono delle tracce chimiche e io quello che faccio esterpo dicimi le varie erbacce che sto facendo proprio adesso in questo momento le lascio lì e non vado molto in profondità con l'aratro così l'organico è dato dall'erba che tolgo quindi praticamente una rigenerazione di generazione si proprio sul territorio senza immettere altro senza immettere altro dall'esterno quindi non usi nemmeno concime da compostaggio? no nessun tipo di concime da compostaggio tutto quello che è nel terreno le bucce dei tuoi prodotti che viene dentro nel terreno lo lasci a marcire direttamente nel terreno direttamente nel terreno e poi quando vado perché ho anche un'attrezzatura diciamo per arare aro in superficie non vado quindi la terra e si ricrea dicimi i componenti che servono quindi i componenti organici che rimangono sotto continuano la loro operazione di rigenerazione è quello che tu ha praticamente prepari è superficiale solo per la semina e ho visto che funziona benissimo quali prodotti riesci a fare a livello di ortaggio? qualsiasi tipo di prodotto diciamo dal pomodori pomodori già di per sé un alimento povero diciamo che ha bisogno di pochissime sostanze sostanze organiche diciamo e poi tutto il pezzemolo tutto tutto diciamo dalla zeta quello che si uno normalmente usa per la cucina melanzane peperoni e come mai qua si sta più fresco? e si sta fresco perché ho lasciato quattro pini impiantati tantissimi anni fa e adesso mi servono per fare un po' d'oltre. No perché vi assicuro che oggi è una giornata caldissima e raggiungiamo intorno ai 38 gradi penso oggi. E però qua da Lorenzo sottorno a questi alberi si sta fresco? strutture perché si sta molto più caldo e poi dovrei mettere il condizionatore non mi serve né corrente non mi serve assolutamente niente. No devo dire la verità è vero io mo vengo dal da un residence qua vicino che non faccio nome per non fare pubblicità e stavo morendo dal caldo sono venuto da Lorenzo mi sono seduto l'orea ho smesso pure di sudare e quindi si trovano le condizioni di cibi ideali per poter stare. Pur essendo questa è una zona molto ventilata vero? Sì sì e questo aiuta. E quindi i prodotti che fai poi vengono la gente e vengono al pubblico. Io ti ho mangiato i pomodori e le melanzane ottimo melanzane che poi ecco bisogna dire anche un po' l'aspetto no perché quando uno compra melanzane si mangia una melanzana quella grossa. No molto piccola. Invece le due sono molto piccole. Molto piccole perché è dovuto proprio anche diciamo all'apporto di non tantissima acqua di non tantissima acqua quindi poi rimangono diciamo piccole. Io devo dire che ho fatto il sugo ieri con le melanzane, uno spettacolo, abbiamo mangiato sia a pranzo che a cena. Ci credo, ci credo. Abbiamo mangiato sia anche gli spaghetti che la sera ho lasciato un po' col pane e i ragazzi sono stati veramente contenti, molto buoni. Quindi noi lasciamo Lorenzo naturalmente perché l'intervista via web non deve durare troppo. Ci prendiamo i contatti con l'associazione possiamo tener conto magari che ne so qualche perché lui fa anche il pittore. Sì. Espone anche dove. Qui a Viesto è una collettiva di arte contemporanea dove partecipano più di 20 artisti. Poi sono professionalmente un architetto però svolgo essenzialmente un ruolo da agricoltore. Possiamo dire un architetto dell'agricoltura ecosostenibile. Anche questo lo possiamo fermare. È bello questa cosa. Abbiamo conosciuto Lorenzo. Mi diverto sulle cose che faccio ci metto passione. Parlaci un po' del tuo olio prima che... Il mio olio è anche in conversione diciamo biologica e ha durata quinquennale e da dicembre diventerà un prodotto biologico diciamo tutti gli effetti regali ma... Senti il tuo olio che caratteristiche ha? Ho cercato in tutte le maniere di fare un olio delicato appalato che permane delicato e che assume diciamo l'aspetto diciamo con un procedimento tradizionale classico quello di essere di un percolato d'olio senza nessun contatto con le acque di avere un olio diciamo di elevata qualità. Non centrifugato assolutamente solo fatto con le macine in granito ed è per pressatura. È preso il primo fiore perché il mio olio l'ho chiamato primo fiore perché è stato preso proprio l'estratto di senza contatto assolutamente neanche con le acque vegetative. Quindi è un olio di eccellenza. Io sono presente da assaggiarlo, da provarlo, io lo sto promuovendo perché essendo un olivicoltore so se lo vendo a commercio a un costo, se lo vendo alle famiglie offrendo la qualità mi permette di andare avanti anche con... I nostri amici che ci sentiranno e che non sono vicini, giustamente tu fai una tecnica di chilometrizzere ma se vogliono assaggiarlo hai possibilità anche di spedirlo? Sì, essenzialmente faccio spedizione in tutta Italia, in Europa, anche negli Stati Uniti. Certo. Naturalmente l'olio però va mangiato in luogo perché ha un sapore completamente... Sì, ma è fatto anche un olio diciamo praticamente per una cucina che riconosce diciamo le cose buone, alimenti sani diciamo e buone, fatte con passione e che hanno diciamo realmente all'interno quel quel che gli dà il caratterismo. Certo. Quindi abbiamo conosciuto Lorenzo che è una persona favolosa, io vi faccio vedere un po' di prodotti, molto semplice, andiamo a vedere anche l'orticello. Ecco qua, qua abbiamo tutte le officinali, queste sono tutte erbe officinali. Amici del canale ecosostenibile siamo ancora nell'orto di Lorenzo, nel Gargano, nella bellissima Vieste. E qui c'è, vedete, anche per quanto riguarda le tecniche di risparmio abbiamo il goccia a goccia, in modo da usare poca acqua e soprattutto nei punti di risparmio. in cui serve, queste sono piante di pomodoro, melanzane, peperoncino, cetrioli, anche se non è molto grande qui Lorenzo riesce comunque a tirar fuori un po' di cose. Io vi saluto naturalmente, ci vediamo col prossimo servizio. Speriamo che gli altri soci dell'associazione abbiano apprezzato questo momento che se, diciamo così, io sono in vacanza, però non posso esimermi di notare persone e luoghi soprattutto, perché le persone poi si, come dire, si amalgamano al luogo e al territorio e quando c'è passione e soprattutto amore per la madre terra, questo nasce qualcosa di buono. persone e paesaggi diventa un'unica cosa e quindi automaticamente nascono delle eccellenze che secondo me dobbiamo fare in modo che veicolano in tutto il nostro sistema Italia, che è un sistema che purtroppo queste cose molte volte le lascia un po' così nel dimenticatore. Noi ringraziamo tutti con la visione dell'orto di Lorenzo al punto bio nella località Santa Lucia di Vieste. Ciao a tutti e buone vacanze. Arrivederci. Vieni a Palazzo B.